iGreen è l'occhiale perfetto per te. Grazie alla esclusiva tecnologia AVEA, puoi scegliere forma e colori dei tuoi iGreen. Il Green Vision li creerà a su misura per te, grazie alla scansione 3D del tuo viso. E per il meglio della tecnologia, anche nelle tue lenti, scegli Zeiss. iGreen, i tuoi occhiali biometrici unici e originali, solo nei centri ottici Green Vision.